Tifosi del Milan attenzione, direttamente da Milanello, abbiamo ottime notizie per voi che aspettate con ansia la prossima sfida della nostra squadra in Champions League? La nostra redazione ha ottenuto informazioni esclusive sulle condizioni dei giocatori infortunati, Morata, Ocafor e Calabria, che preoccupavano i tifosi, sono tornati ad allenarsi con il gruppo e sono confermati per viaggiare con la squadra verso la decisiva partita contro il Bayer Leverkusen, allenato da Xabi Alonso. Questi tre nomi importanti hanno mostrato un buon recupero negli allenamenti, il che porta sollievo a tutti noi, consapevoli di quanto possano fare la differenza in una partita ad alta pressione. Ora, la grande domanda è, Fonseca li schiererà dall'inizio o lascerà le loro entrate per i momenti decisivi? Lo scopriremo solo domani, ma l'importante è che siano pronti a dare il loro contributo. Ora la palla passa a voi, tifosi. Come pensate che Fonseca dovrebbe utilizzare Morata, Ocafor e Calabria, dall'inizio o come armi segrete nel secondo tempo? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdervi nulla sul Milan in Champions League, forza Milan!